bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video io sono peppe chanel e adesso vi faccio vedere la processione del venerdì santo che si fa a Procida, ok? Buona visione! Grazie a tutti! 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 Due, tre... ciao 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 perché c'è questa usanza di portare i bambini gli angioletti che fanno la madonna e la gente la madonna la madonna la madonna la madonna la madonna i i i i i Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti